Chiudere immediatamente e trasferire in una struttura più sicura il repartino penitenziario dell'ospedale Santissima Annunziata di Sulmona, altrimenti partirà un ricorso alla magistratura. Lo afferma il segretario generale territoriale della UILPA Polizia Penitenziaria Mauro Nardella. Dal momento che il reparto dedicato a ricovero e alla cura dei detenuti a carcere di Via Lamaccio, collocato nella lavecchia del nosocomio da chiudere dopo i recendi eventi sismici, non rientra nell'operazione sicurezza dell'Ast che prevede il trasferimento di reparti ambulatori in un immobile situato a due passi dall'ospedale. In una lettera spedita al direttore generale dell'Ast, la Venzano Sumona L'Aquila, Rinaldo Tordera, Nardella chiede la soppressione del repartino penitenziario dove aver condotto non poche battaglie a favore dello stesso. Pur essendo in itinere la costruzione del nuovo padiglione penitenziario presso il nuovo ospedale attualmente in costruzione, i ricoveri dei detenuti altamente pericolosi provenienti dal locale carcere vengono tuttora effettuati nell'angusto locale sitone sotterranei della lavecchia del nosocomio vidiano, fa notare sindacalista che riprende. Al manager Ars vogliamo ricordare che sotto i quattro piani dell'all'ospedaliera più insicura del presidio ospedaliero, tra le persone da tutelare vi sono anche coloro i quali lavorano e sono costretti a stazionare, cioè i poliziotti e i detenuti del supercarcere di Sumona. Nardella chiede la chiusura e trasferimento del repartino all'Aquila nelle more dei lavori dal momento che non vi sono strutture disponibili nel capologo Peligno.